ciao a tutti voglio farvi vedere qualcosa di particolare per mostrarvi tv book in azione sul titolo fiat e una peculiarità assolutamente rilevante guardate che cosa succede oggi a fiat nonostante ci sia stato lo stacco del dividendo il titolo passa a più 4 euro 84 rispetto a ieri più 3 e 60 intraday cioè una variazione di prezzo assolutamente interessante ma ora vorrei discutere con voi del motivo per cui fiat dopo essere salita ha trovato due punti veramente forti un po di congestione uno prima qui e poi soprattutto qui e perché si stia fermando su questo livello osservate bene il tipo di valutazioni che farò vorrei anche poi soffermarmi sul motivo per cui noi ci troviamo con un titolo dove una volta tanto non vale il solito teorema che i piccoli stanno dalla parte sbagliata i grossi dalla parte giusta perché qui abbiamo i contratti piccoli assolutamente molto più esposti in acquisto 60 per cento lo vedete mentre gli operatori grossi apparentemente dalla parte sbagliata perché più andiamo verso ordini grandi più passiamo da small a xl a xxl più abbiamo vendite quindi apparentemente dalla parte sbagliata cerchiamo però di ragionare questa situazione fiat questa mattina ha staccato un euro e 84 di dividendo il dividendo è tassato alla fonte quindi diciamo che partendo da 12 e 77 cioè il prezzo rettificato la chiusura di ieri meno l'euro 84 di dividendo succede questo che chi ha incassato il dividendo su fiat non ha potuto tra virgolette tenersi per sé tutto il denaro ha avuto diciamo così un partner che è lo stato che si è preso una fetta importante del dividendo quanto esattamente il 26 per cento ebbene quant'è il 26 per cento di quant'è il 26 per cento di un euro e 84 è abbastanza facile farlo basta fare un euro e 84 diviso 100 moltiplicarlo per 26 e viene il valore che è 0 478 se noi sommiamo 0 478 al prezzo di apertura che fa 12 772 viene fuori un prezzo che è 13 25 04 quindi approssimiamolo per un attimo a 13 25 che è diciamo l'area di prezzo che noi possiamo trovare più o meno qui guardate questo qui è 13 e 25 più o meno su questo grafico ok così cominciamo anche a spiegarci perché quando siamo arrivati qui qualcuno ha cominciato a vendere che cosa succede infatti succede che chi è incassato il dividendo e si è visto una parte del denaro presa dallo stato perché c'è l'imposta del 26 per cento se fiat risale e ritorna quel prezzo da quel valore in su e ci sta guadagnando e quindi vende allora attenzione perché vi faccio vedere con la nuova funzionalità che plotta sul grafico diciamo come dire il il view up e il last price sorprendentemente noi che cosa notiamo che il prezzo medio di giornata è un prezzo medio che somiglia tantissimo a quel punto di pareggio contando anche la fetta che si è presa lo stato più un po di come dire guadagno che si fa cioè notiamo che chi ha venduto oggi mediamente il prezzo medio di giornata essendo 13 e 28 e 2 è un po più alto di quel 13 e 25 che noi abbiamo detto essere il prezzo diciamo comprensivo di quello che si è preso lo stato e quindi non ci deve stupire se sopra questo prezzo ci sia qualcuno che vende ora vorrei dire chi vende sopra questo prezzo sì che sta guadagnando rispetto a ieri e rispetto allo stacco del dividendo perché dentro c'è anche incluso il costo che si è preso lo stato la fetta che si è presa lo stato quel valore da 12 e 77 fino a 13 e 25 praticamente è l'imposta ok e allora cosa dobbiamo fare dobbiamo guardare grazie a questa funzione non solo chi ha venduto sopra ma anche cosa sta facendo e così magari troviamo una spiegazione del perché stranamente rispetto al solito i piccoli sembrano dalla parte giusta mentre i grandi sembrano dalla parte sbagliata perché uno che legge approssimativamente ciò che sta succedendo su fiat dice a fiat è gradita dopo il dividendo andiamo a vederlo nei dettagli allora guardiamo le diverse categorie categoria xxl i più grossi operatori dove stanno comprando e dove stanno vendendo guardate qua se io prendo loro hanno cominciato guardate le vendite grosse di questi operatori cominciano proprio da qui cioè da sopra fino a qui cose normali da qua sopra cominciano delle vendite più grosse guardate l'istogramma collocato qui a sinistra proprio dove ci sono i book è lo stesso istogramma che avete visto di qua riportato di qua è questa la zona la vedete è questa qui la zona dove loro hanno prevalentemente venduto e anche qui cioè comunque più in alto dove si guadagna dove in qualche modo si fanno più soldini perché chi vende qui sta guadagnando rispetto al prezzo di ieri ben più di 15 centesimi anche lo vedete bene siamo sopra 40 ok guardate invece i piccoli dove stanno comprando allora guardate qua i piccoli stanno comprando soprattutto dove i grossi stanno vendendo guarda caso sopra la somma del prezzo dello stacco più il controvalore del 26 per cento pagato al fisco allora guardate come con uno strumento intelligente si riesce a capire il perché fiat è salita fin qui e da qui in poi invece rimane stabile allora sarà molto importante monitorare la seconda parte della seduta perché perché se il prezzo di fiat dovesse tornare sotto 13 25 quest'area del view a poco sotto funzionerà molto da supporto se dovesse tornare lì sotto lo scenario cambia viceversa qui sopra è uno scenario dove lo vediamo i grossi vendono i piccoli comprano a voi la risposta e mi raccomando una cosa importante settimana prossima faccio un webinar per spiegare tutte queste funzionalità non perdetevi lo link per iscrivervi è qui sotto ciao alla prossima